Il calcio non è mai chiuso fino a quando non stai 3-0 a due minuti dalla fine, non abbiamo avuto la capacità di andare sul 3-0 perché ci sono state due o tre situazioni in cui si poteva sfruttare meglio le ripartenze, il tiro o il cross dagli ultimi metri. Non c'erano neanche le avvisaglie perché si potesse subire la rimonta, non ci stavano dando neanche grandissima pressione, in più momenti anche sul 2-1 si dava più la sensazione di poter fare il terzo che non di subire il pari, tant'è vero che Benassi non ha fatto una parata oggi Massimiliano, però sta di fatto che purtroppo nel momento in cui non siamo riusciti a chiuderla, non siamo riusciti neanche a portarla in fondo ed è rammarico, è un peccato perché la prestazione che avevano offerto per attenzione, per intensità, per continuare a trasmettere l'entusiasmo di cui abbiamo bisogno, di cui i nostri tifosi fino alla fine ci hanno manifestato, ci hanno spinto. Il primo segnale una volta subito il 2-2 mancava poco alla fine, è stato proprio l'incitamento da parte dei nostri tifosi sotto la nostra curva, è stato importante e noi vogliamo far sì che questo feeling attraverso le prestazioni, attraverso l'atteggiamento positivo, quello che credo poi alla fine abbiano apprezzato anche i nostri tifosi, al di là del rammarico generale, noi per primi, insieme a loro, dei due punti lasciati per strada.